la sezione Aldina secondo la giuria. Paris You Got Me di Giulie Bohème. Sentiamo prima la motivazione. Allora vi leggerò la motivazione che è il cortometraggio esprime un'ottima qualità unita all'attenzione ad ogni aspetto creativo, scrittura, musica, effetti speciali, recitazione e regia si amalgamano perfettamente e rendono l'opera completa dal punto di vista stilistico ed emozionale al di là delle parole. Un bel racconto di poesia visiva. Benissimo e abbiamo il video dell'autrice. My name is Giulie Bohème e I'm the director of Paris You Got Me. And you got me. Thank you so much for letting us to win the best short film. And I am sending you much love from Germany. I hope you're spending a great time and have fun watching my film in the theater. And now I have a surprise for you. I will share some impressions from our production. So take care and thank you. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie.